Ciao sono Cristian di Play Lover, Cristian sono io e Play Lover Academy è l'azienda che aiuta uomini e ragazzi ad avere migliori rapporti sentimentali con le ragazze. Lo facciamo attraverso dei corsi dal vivo che eroghiamo in tutta Italia, delle consulenze a distanza e dei videocorsi, tutte queste cose che facciamo normalmente a pagamento, perché questo è il nostro lavoro e chiaramente le competenze, il tempo e le conoscenze si pagano, so che per qualcuno questo possa sembrare strano, ma pagare da conoscenza, pagare il tempo di altri, sì, dai nostri parti funziona così, dai tuoi parti non lo so, però ecco noi ci teniamo sempre a specificarlo, anche se per qualcuno è ripetitivo perché dobbiamo adattarci anello più debole della catena. Allora, oggi ho fatto un video, ho preparato un video che praticamente non è chissà quanto didattico, ma è più a scopo informativo, ok? Che non è, vuol dire pubblicitario, vuol dire informativo. Play Lover non è solo per i single, Play Lover non è solo per i single, perché le criticità che ci sono, che si presentano, si palesano nella nostra realtà sono molteplici e di seguito vi elenco le più frequenti. Problema numero conoscenza di nuove donne. La maggior parte degli uomini ha questo problema, non sa come conoscere donne nuove, non riesce a conoscere donne nuove costantemente, non ha un metodo, non sa cosa dire, non sa come proseguire la conversazione, non sa quali sono i tipici comportamenti femminili, non sa come riconoscere determinate dinamiche e quant'altro. Quindi tu prova a immaginare come potrebbe essere la vita di un uomo senza una donna, senza la possibilità di arrivare a donne. È ovvio che una vita senza appagamento sentimentale o sessuale è assai frustrante, no? Io lo dico sempre, è ovvio che le donne non sono magari la priorità della vita, però un uomo che non ha una donna, che non ha una vita sessuale appagante, ma che vita fa? Cioè è ovvio che è una vita di basso livello qualitativo, quindi mi sento di dire che questo è veramente un problema molto importante che risolviamo alle persone che vogliono imparare a conoscere donne nuove. E quando le persone dicono ah ma voi lucrate sulle insicurezze degli uomini? No, noi risolviamo un problema e per questo problema noi ci facciamo pagare perché abbiamo delle conoscenze, delle competenze e ci mettiamo il nostro tempo. E questo problema lo risolviamo perché se siamo partiti in due e adesso siamo in 30, vorrà dire che funziona, no? Staccavo di baracca, cioè mi sembra evidente però la gente non ci arriva. Problema numero due. Problema due. Riconquista ex o uscita free hand zone? Quindi un altro problema molto frequente in play lover è la riconquista della ex. Ne entrano, non so, cinque consulenze e cinque corsi. Tre consulenze sono per conoscere donne nuove e una è per riconoscere, per riconquistare la ex o uscire da una frenza. Quindi il fatto che le relazioni finiscano e si vuole in qualche modo recuperare il partner, la ragazza in questione e salvare appunto la storia, è un problema molto frequente. Capita quasi ogni giorno che un uomo finisce la sua relazione dopo tantissimi anni, non vuole rassegnarsi e vuole fare un tentativo di riconquista. Ve lo dico già, questo è il caso più difficile perché capita di arrivare ad una riconquista poche volte. Io ve lo dico chiaramente quando tu metti dei soldi qua ricordati che li devi mettere per te stesso e per imparare qualcosa di nuovo e non per la ragazza. La ragazza fa la coaching per te? No. Quindi tu perché devi fare la coaching per lei? Tu fai la coaching per te stesso, per te stesso perché vuoi cambiare, vuoi svoltare, non vuoi più essere nella stessa identica situazione. Problema numero 3. Problema 3. Ritorno in pista. Allora molto simile al caso 1 con una piccola differenza. Qua magari abbiamo a che fare con persone che hanno 20, 25, 30 anni. Qua abbiamo persone che escono da una relazione e devono tornare in pista a quell'età per costruire magari una nuova storia, per riprendere conoscenze e per iniziare una nuova reazione, una nuova conoscenza, una nuova frequentazione. Non è affatto banale perché dopo magari una relazione molto longeva di 10, 15, 20 anni, immaginate cosa vuol dire interrompere la frequentazione a quella persona, la convivenza a quella persona e ritornare in pista. Magari sono passati 20 anni e in questi 20 anni è cambiato tutto. Sono nati i social, le donne hanno un potere misurato, Instagram, follower. Eh ma una volta non c'era. Quando tu ti sei fidanzato quella roba lì non c'era e adesso c'è. La sai gestire? No? E noi facciamo anche questo. Problema numero 4. Riportare le relazioni in equilibrio. Quindi come vedete Play Lover non è solo per i single ma è anche per chi ha una relazione. Cosa accade in queste situazioni? Accade questo. Che l'uomo cade vittima della donna. Adesso ho detto una parola. Oddio, oddio, ha detto la verità. Mamma mia, commenti adesso. Le donne hanno, come dire, degli atteggiamenti normali che prevedono di prendere potere a detrimento dell'uomo. Anche in maniera involontaria, cioè lo fanno proprio di natura. Tentano di manipolare e di sottrarre potere. E succede che la relazione inizia a sbianciarsi e la donna finisce per comandare, l'uomo continua a inseguire, la donna scappa, l'uomo insegue, l'uomo si adatta, l'uomo ubbidisce, eccetera, eccetera. L'uomo diventa praticamente il cagnolino della donna. Ed è ovvio che una relazione di questo tipo comporta la necessità di rifissare un equilibrio. Altrimenti prima o dopo finirà. Perché non penso che tu voglia vivere una relazione per essere trattato male o per essere il servo della tua ragazza. No. Serve assolutamente che tu viva una reazione soddisfacente, appagante, ma anche equilibrata. Equilibrata. Dove c'è equilibrio? Tu fai 40, 50, 60, lei fa 60, 50, 40, ok? Quindi si va a creare una relazione equilibrata che dura nel lungo periodo, ok? Problema numero 5. Problema 5. Migliorare la comunicazione nella coppia. Capita anche questo. Magari la relazione sta andando molto bene e faccio un esempio. Magari uno dei due partner, lui, ha una fantasia che vorrebbe realizzare ma non sa come dirglielo alla lei di coppia. E qui il nostro team di consulenti ti può aiutare a gestire la situazione e introdurre quella che è la tua fantasia. perché tu magari non hai esperienza, è la tua prima relazione, prima d'ora non ti era mai successo, non sai come dirglielo guarda vorrei fare questo, mi piacerebbe sperimentare quello, non sai come muoverti. Quindi la paura di combinare dei disastri ti fa rimanere fermo. Però tu hai questo pallino nella testa che magari vuoi realizzare e lo vuoi condividere con la tua compagna. Anche in questo caso Play Lover ti può dare una mano. Quindi il fatto che Play Lover sia solo per i singoli e solo per quelli che vogliono conoscere donne nuove è una vostra idea ma non è tutta la realtà dei Play Lover. È la parte maggioritaria? Sì! La maggior parte delle persone che si rivolgono a noi vogliono imparare a conoscere donne nuove. Mi sembra che sia giusto che ognuno di noi possa avere questo tipo di capacità perché a scuola non te la insegnano, le famiglie non te la insegnano, quindi qualcuno dovrà pure insegnarla, no? Noi siamo qua per questo. Però ci sono tante altre casistiche che rientrano all'interno della realtà Play Lover. Ho voluto fare questo video informativo che non è a scopo didattico perché magari qualcuno eronamente crede che Play Lover sia solo per i singoli quando in realtà non è così. Però meglio dirlo perché altrimenti le persone non ci credono e non lo sentono, non lo capiscono, non lo capiscono e hanno bisogno di venirne a conoscenza. Qui da Christian via, per oggi è tutto.